Parliamo di economia ma di tutt'altro genere perché c'è un nuovo indice che misura nel nostro paese il benessere sostenibile a partire dal 2019 le leggi di bilancio dell'Italia saranno valutate anche in base al cosiddetto BES, cioè l'indice del benessere eco e sostenibile, quindi non più solo prodotto interno lordo, ma 12 indicatori più raffinati e rappresentativi dello stato di benessere di una nazione. Ne parliamo con l'economista Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile. Benvenuto alla News24. Buongiorno. Ci aiuti a capire perché il prodotto interno lordo non era più sufficiente e in cosa il BES si aggiunge in maniera complementare? Da molto tempo ormai discutiamo a livello internazionale sul fatto che bisogna andare oltre il PIL, misurare le diverse dimensioni del benessere, oltre che l'equità e la sostenibilità. E questo ha spinto, io quando ero all'Office spingevo proprio in questa direzione, tanti paesi a misurare le diverse dimensioni del benessere usando indicatori alternativi, che possono riguardare la distribuzione del reddito, della ricchezza, ma anche il lavoro, le differenze di genere e così via. E l'ambiente naturalmente, che è un elemento estremamente importante. Quando ero presidente dell'Istat lanciai l'idea di costruire il BES e quindi sviluppammo insieme a Cnel questo set di indicatori che testammo con la società civile, con gli esperti del campo. Quello che sta accadendo in questi giorni è che viene a compimento quel progetto perché il Parlamento, entro dopodomani, deve dare un parere sulla proposta fatta dal governo, da una commissione di esperti, in cui abbiamo proposto 12 indicatori. E sono indicatori ambientali, sociali, di distribuzione appunto del reddito, ma anche di salute, come l'obesità, che sappiamo essere un indicatore che anticipa le condizioni di salute delle persone. Anche in futuro, naturalmente l'aspettativa di vita, l'emissione di CO2, insomma tutta una serie di indicatori e qual è la novità. E su questo l'Italia è all'avanguardia, direi, nel mondo. Il governo, quando ad aprile deve fare il documento di economia e finanza, in cui si fanno i piani per il deficit, il debito, il PIL e così via, deve anche prevedere questi 12 indicatori, le tendenze, ma anche l'impatto delle proposte di legge su questi temi. E poi a febbraio dell'anno successivo, una volta approvata la legge di bilancio, il governo deve dire come la legge di bilancio impatterà su questi indicatori. E' un passo avanti molto importante che consentirà al nostro Paese di valutare non solo la dinamica economica media, ma anche l'equità e la sostenibilità. L'obiettivo futuro potrebbe essere non solo quello di valutare, ma anche quello di essere valutato. C'è tutta la vecchia storia del giudizio di Bruxelles sulla flessibilità o meno. Sarebbe possibile, oltre a essere auspicabile, inserire anche a livello europeo parametri del genere? Già adesso la Commissione europea, quando fa le raccomandazioni al Consiglio, valuta un insieme di indicatori, non soltanto il PIL naturalmente. Anzi, da che c'è la cosiddetta flessibilità, con gli indicatori che hanno a che fare con le riforme strutturali, si va a vedere se la crescita potenziale di un Paese cresce o diminuisce a seconda delle leggi approvate. Però è vero che a livello europeo non c'è una forza cogente di questi indicatori. Vedremo però l'anno prossimo, perché nel 2015 tutti i Paesi del mondo hanno adottato l'agenda dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, impegnandosi entro il 2030 a raggiungere tutta una serie di obiettivi, lotta alla povertà, miglioramento dell'alimentazione e così via. E quindi ogni Paese deve essere valutato anche alla luce di questi indicatori. Qual è però il punto? Che se le politiche non sono disegnate e valutate in modo quantitativo, il dibattito pubblico scivola come al solito sullo 0,1 o 0,2 di questo o quell'indicatore. E soprattutto le politiche non sono sviluppate in modo coerente, per cui magari aumenta il PIL, ma questo, perché non è stata fatta una politica ambientale, energetica appropriata, aumenta le emissioni e quindi peggiora la qualità della vita. Quindi siamo solo all'inizio di un processo molto importante e sarà importante anche che l'opinione pubblica, i cittadini siano informati dell'andamento di questi indicatori per esercitare, in vista soprattutto delle prossime elezioni, come ha ricordato anche il Presidente Mattarella, una pressione per obbligare i politici a occuparsi anche di questi problemi. Affrontiamo allora la questione in un altro modo rispetto all'usuale, perché anche oggi sono usciti alcuni dati proprio sul prodotto interno lordo dell'Eurozona, aumenta nel secondo trimestre dell'anno, più 0,6% rispetto al precedente, più 2,1% su base annuale. Sembrano numeri piuttosto positivi. Allora cosa manca? Ma è certamente un dato importante, però le faccio solo un esempio. Se si parla di prodotto interno lordo, per persona, in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, tra il 2007 e il 2014 il PIL dell'Eurozona era aumentato del 2%, attenzione, non all'anno, 2% nel complesso. Invece prendendo il reddito disponibile delle famiglie, cioè quello che resta alle persone dopo aver pagato le tasse, e così via, meno 5,5%. E' chiaro che questa forbice, oltre 7 punti, è spiegata da un lato dall'aumento della tassazione, che però peggiora evidentemente la condizione delle famiglie, almeno nel breve termine, e anche dai profitti dei multinazionali che vanno all'estero, dalle rimesse degli immigrati. Insomma, sempre di più, il prodotto interno lordo non è sufficiente, per esempio, per stimare l'impatto sull'occupazione. Noi sappiamo che l'elasticità cosiddetta, cioè il fatto che all'aumento del PIL non corrisponda necessariamente a un aumento dell'occupazione, a causa dell'innovazione tecnologica o di altri fenomeni, è un fenomeno che peserà sempre di più nel futuro. Quindi le politiche non possono guardare solo a reddito, pure importante, ma devono diffondere il benessere attraverso, per esempio, un aumento dell'occupazione. Ieri con i dati Istat si è parlato molto del fatto che il tasso di occupazione femminile abbia raggiunto un massimo, ahimè molto relativo, perché rispetto agli altri paesi siamo molto indietro. Ecco, uno dei 12 indicatori prende la differenza tra il tasso di occupazione delle donne con figli e quelle senza figli. Da adesso in poi le politiche del governo, dei governi futuri, dovranno spiegare come gli interventi nella legge di bilancio ridurranno questo tipo di assimmetria, che invece oggi sono piuttosto importanti, soprattutto in alcune aree del paese. Visto che citava i dati dell'Istat di ieri sull'occupazione, c'è stato il record, perlomeno da quando esistono questo tipo di rilevazioni storiche, delle occupate al femminile appunto, però c'è anche un altro record storico, quello dei contratti a tempo determinato. Questo vuol dire che nonostante il cambiamento della legge e l'introduzione del contratto a tutte le crescenti, nonostante i 10 miliardi all'anno messi nella decontribuzione per incentivare l'orientamento delle imprese verso questo contratto, le imprese continuano a preferire, appena si è ridotta poi l'incentivazione, questo è a passo evidente, continuano a preferire contratti a termine, a breve termine, anche perché è ancora in vigore un decreto che consente di rinnovare questi contratti fino a tre anni senza bisogno di causale, senza spiegazione. Questo è un indicatore non piacevole, non solo naturalmente per le persone coinvolte, ma anche un segnale di preoccupazione di molte imprese, che evidentemente vedono la ripresa economica, non molto forte, ma comunque significativa, ma hanno paura del futuro e quindi questa paura sia delle persone sul loro futuro individuale, che magari spinge a risparmiare invece che spendere, sia delle imprese che sono molto prudenti e quindi magari non investono, spiega esattamente perché noi cresciamo meno di altri paesi. Quindi è un fenomeno, è un cane che si morde un po' la coda, ma è evidente che sono dati che segnalano una propensione per il breve termine sia da parte delle imprese e purtroppo di conseguenza delle persone. L'ospicio è che con questo nuovo indice, il cosiddetto BES, le cose possano iniziare a cambiare direzione. Ringraziamo ovviamente Enrico Giovannini per essere tornato a trovarci. Buon lavoro.